Ciao sono Luca Vanin e in questo filmato vi spiego che cos'è il webinar lab ma soprattutto perché può esserti utile e perché può essere molto stimolante per te partecipare. Come forse sai in questi anni io e Fabio Ballor abbiamo lavorato moltissimo con i webinar e abbiamo ormai raggiunto circa 1500 ore di attività online di questo tipo e abbiamo imparato molte cose. Alcune le abbiamo messe in un libro, altre le stiamo inserendo in altre pubblicazioni e soprattutto le concretizziamo nei nostri corsi Speed Webinar e la Webinar Academy. A un certo punto ci siamo resi conto che poteva essere utile creare uno spazio di pratica, uno spazio di sperimentazione, un qualcosa che permettesse alle persone, che fosse un evento, che fosse un incontro, che permettesse alle persone di sperimentare la tecnica, le strategie, gli strumenti per comunicare online e per presentare nel web. Quando noi parliamo di presentare nel web che cosa intendiamo? Intendiamo un'eterogenea gamma di eventi online che vanno dalla semplice videoconferenza, quando presentiamo delle slide, magari con la webcam, sempre chiaramente online, al web meeting, alla riunione online, che passano dalle aule virtuali online dal vivo, alle semplici Skype app. Non ci interessa che tipo di evento potrebbe in qualche modo coinvolgerti da presentatore o da conduttore nei prossimi anni, non è quello importante. L'importante è la nostra attenzione al come fare web, come fare comunicazione online in modo efficace, quali strumenti utilizzare, quindi le piattaforme, i tools online, le applicazioni che permettono di arricchire l'esperienza della comunicazione e della formazione online e soprattutto le strategie e i trucchetti. Per far questo il Webinar Lab funziona in questo modo, ci si trova online, chiaramente via webinar, tutte le settimane, indicativamente al centro della settimana, una settimana prima di cena e una settimana dopo cena. Così siamo tutti, abbiamo la possibilità di partecipare una volta o l'altra. Sono incontri gratuiti, aperti a tutti, non devi essere esperto. Perché diciamo aperti a tutti? Perché chiunque può portare la propria esperienza, può portare i propri dubbi, può raccontare il proprio caso e può anche fare le pulci sulle esperienze degli altri. Magari qualcuno consiglia una tecnica, qualcun altro dice no, meglio usare questa strategia. È un gruppo aperto. L'aspetto più importante è che vogliamo partecipanti che partecipino, quindi che siano attivi, proattivi. Non sei obbligato a prendere il microfono ogni volta. Chiaramente noi invitiamo le persone che vogliono partecipare a essere attivi, proattivi e a sperimentare se stesse e mettersi in gioco. Quindi se sei interessato ti invitiamo ad andare sulla pagina dedicata al Webinar Lab su www.webinarpro.it e ad iscriverti. Perché ti chiediamo di iscriverti? Per il semplice fatto che vogliamo sapere chi sono i nostri partecipanti. Vogliamo avere chiaramente idea di chi abbiamo virtualmente davanti. Perché è un gruppo aperto, ma è un gruppo che nel corso del tempo ha sviluppato molte strategie, le ha condivise, le abbiamo pubblicate in diversi modi e che ha l'intenzione di sperimentare nuovi modi di comunicare. Quindi sei invitato, sei invitata a prendere parte a questo progetto, sentiti libera di contattarci, iscriverci a info-webinarpro.it o a partecipare ai nostri incontri e speriamo di vederti prestissimo in prima fine. Quindi sei invitato su webinarpro.it a iscriverti e ti aspettiamo, speriamo di averti prestissimo. tra i nostri partecipanti.